Ciao a tutti ragazzi, sono Happy, bentornati su Mega Wow! Siete carichi per un nuovo video? Oggi non avevo voglia di fare qualcosa di complicato e allora ho pensato di fare una bella reaction Beh, tutti gli youtuber quando non hanno idee fanno questi video Quindi ho deciso di fare una reaction al video di TikTok Io ne guardo un sacco e mi fanno troppo ridere È tipo quello che dice I'm ready Tracer Beh, io so l'inglese Ma comunque fanno ridere anche se uno non capisce tanto Poi ho visto che non piacciono solo a me, ma a tutti quanti Quindi è il momento perfetto per copiare quello che fanno tutti E iniziamo! Ma cos'è? Caspita! Ma è altissimo! Un dinosauro! Bellissimo! Un dinosauro vero! Spettacolo! Wow! Io adoro i dinosauri! Guarda che bello! Ma qui c'è uno che cammina sui vetri! Ma cos'è? Un ponte di vetri? Oh, mamma mia! Cavolo, si sta rompendo tutto! Scappa, scappa! E questo cosa fa? Suona col classo? Ma si stanno rispondendo! E vai, viva il concerto! Oh, mamma mia! Questo mi ha fatto paura! Che faccio? Che brutto! Mamma mia! E questo si trucca? Ma questa musica la riconosco! È quella dei pirati dei Caraibi! E scusi! Sembra che si appoggia la Torre Eiffel! Ah, ma c'è dietro anche quella vera! E provare ad appoggiarsi a quella di Pisa! Che strano modo di truccarsi Sembrano i regi 2 robot Ma è fantastico Guarda come si muove Anch'io voglio provare Le merendine Anche io ci ho provato Non mi danno mai da mangiare Ecco infatti sei incastrata No Fantastico Si è staccato la sua cerniera E l'ha attaccata al vetro delle macchinette Poi ha aperto il vetro e si è preso da mangiare Wow E' un mago Anche io lo sono Ci devo provare Wow una ragazza cinese Che usa una specie di mantello dell'invisibilità Sembra Sembra come quello di Harry Potter Questi cosa fanno Mangiano l'anguria Ah questi hanno una torta di panna Ecco Tutta in faccia Adia la spalmata E' una bambina girata di schiena Che bello Che cresce l'ombra Adesso diminuisce Oh cagnolino Ah si guarda con l'altro Ciao ciao cagnolino Questo sta sospeso in aria Ah Era sul pavimento E questo cos'è Ah Una specie di ciliegia No Si è congelata dentro un bicchiere Si è tirato sotto il blocco Questa ragazza cosa fanno Per far spaventare il ragazzo Ma è tipo la matrioska Non finisce più Un'altra anguria Con questo non la mangio Oh col padine Gliel'ha portata via Oh uno vestito da orso Stanno provando i cappetti Non gli sta in testa C'è il testone troppo grosso Wow Uno sparato con la catapulta Che volo che ha fatto Vado ad aprire E far cadute Oh che bello Gattino con mamma gatta Guarda come si muove Che bello Che io li voglio gattini È caduto dalle scale E si è morso il cappello Ok direi che per oggi Ho usato abbastanza internet Ora è il momento Di una bella pausa E di una merenda deliziosa E poi devo dirvi la verità Dopo un po' Questi video Mi stancano Meglio andare in giro A ricorrere ai piccioni Io una volta ne ho assaggiato uno Ed era squisito Ma questa è un'altra storia Se la volete sapere Lasciatemi un commento Iscrivetevi al canale E lasciate un bel like Alla prossima ragazzi Ciao 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 Ciao